Tappa del Giro d'Italia a Teramo il prossimo 7 di maggio che vedrà una serie di eventi collaterali di avvicinamento all'arrivo della 106esima Carovana Rosa. Presentate alla stampa le iniziative che partiranno domenica 16 aprile e che vedranno tra gli appuntamenti clou il concerto di Cristina D'Avena e Gembo il 5 maggio e la Santa Messa del ciclista prevista per domenica al Duomo. Sì è la 106esima edizione possiamo in qualche modo dire che il Giro d'Italia parte da Teramo perché il chilometro zero è proprio nel territorio del nostro comune. È un giorno importante per la nostra città sarà una domenica domenica 7 maggio c'è un programma molto importante che parte già da questo weekend con una serie di manifestazioni sportive con una serie di manifestazioni culturali in particolare il festival delle radio universitarie in collaborazione proprio con la Fondazione Universitaria e l'Università di Teramo dove riceveremo a Teramo una serie di ospiti chiaramente tutte le radio più importanti d'Italia e tantissimi altri ospiti come Pannofino, come il concerto di Cristina D'Avena in Piazza Martiri venerdì 5 e tante altre manifestazioni anche di intrattenimento per i più piccoli proprio per vivere questa giornata del 7 maggio come una grande festa dello sport. Spazio anche al momento religioso? Sì esatto anche la curia di Teramo fa parte del comitato organizzativo del Giro d'Italia, della tappa del Giro d'Italia a Teramo e ci sarà una messa del ciclista alle ore 9.30 proprio di domenica 7 maggio che sarà presiduta dal Vescovo quindi tra l'altro anche una delegazione di ciclisti che parteciperà quindi inizierà con questo momento la giornata di festa del Giro d'Italia a Teramo.